Lo dicono i fatti, oggi la Toscana è la terza, secondo la Fondazione Gimbe, per la copertura vaccinare. Ecco, la Toscana che aveva 30 settimane fa 4.880 contagi in una settimana, oggi arriverà alla fine di questa settimana ad averne 3.500. Perché? Semplicemente perché è il vaccino che consente di arrivare al risultato di vedere e superare la quarta ondata pandemica senza restrizioni di mobilità. Vogliamo che si continui con le zone rosse, le zone rancioni e le restrizioni di mobilità? Io personalmente ritengo che per la nostra comunità sia attraverso il vaccino invece è possibile convivere con quello che è un virus particolarmente insidioso, direi terribile, che si adatta alle situazioni e che ha portato nell'arco di un anno e mezzo a far morire in Italia quasi 130.000 persone. Ci sono dei momenti, la storia ce lo insegna, in cui l'unico modo per debellare quello che diventa una pandemia è proprio il vaccino. È accaduto per la polio, è accaduto per il vaiolo, è accaduto per malattie terribili che sono state debellate solo nel momento in cui il vaccino ha creato l'immunità di Grece e con questo dobbiamo fare anche con il Covid-19.